Dopo una prima operazione di trattamento biocida delle superfici che erano coperte da batteri, adesso stiamo procedendo alla rimozione delle patine non più attive con un altro trattamento sempre a base di acqua e una piccola percentuale di biocida e come si può vedere la patina biancastra lasciata dai batteri non più attivi viene rimossa lasciando libero allo sguardo la superficie del dipinto che comunque è ancora da pulire. Insomma noi stiamo rimuovendo in questo momento semplicemente la patina bianca. L'operazione è piuttosto lenta, richiede una certa delicatezza perché comunque la pellicola pittorica in alcuni punti può risultare molto delicata quindi bisogna procedere con una certa cautela e con pazienza. In questa zona è presente una lunga iscrizione piuttosto celebre e anche piuttosto danneggiata dove sono presenti moltissime lacune e soprattutto tantissimi sollevamenti di pellicola pittorica. Quindi per ovviare a questo problema bisogna infiltrare delle resine particolari con dei piccolissimi aghi da insulina lungo i bordi di tutte le lacune. Per colmare tutte le piccole cavità e i vuoti di piccolissime dimensioni che sono non soltanto al di sotto dei bordi della pellicola pittorica ma anche tra i grani stessi del macco, ossia della pietra con cui è realizzato l'intonaco, viene iniettata una calci idraulica caricata con la stessa polvere di macco setacciata molto sottile ed altri componenti analoghi alla composizione dell'intonaco stesso. Grazie per la visione!